Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore uno dei concorrenti del grande fratello Vipe, purtroppo morto il nonno di Alessandro Basciano. A darne notizia è stata la sorella del noto modello attraverso una storia su Instagram. In questo giorno di festa te ne sei andato, scrive Giorgia Nicole Basciano pubblicando una foto del nonno. Mi dispiace non essere stata lì, nonnino, ci mancherai tanto. La stessa storia è stata poi condivisa anche dal profilo ufficiale di Alessandro Basciano. Grazie per la visione!